Nuove e importanti indicazioni in Emilia Romagna arrivano per il settore delle costruzioni. Secondo un recentissimo studio commissionato da Union Camere e Camere di Commercio, finalmente, seppur in maniera molto lenta, il settore sta rialzando la testa dopo anni e anni di netta crisi. Il 2015 si è chiuso a livello generale con un aumento del volume d'affari totale dell'1,9%, con in particolare una tendenza positiva per piccole e medie imprese. Continua invece la sofferenza per le realtà con oltre 50 addetti. Nello stesso anno sono però scomparse 1.552 realtà pari ad un meno 2,2%, a favore invece di società di capitali. Un 2015 che vede quindi alcuni timidi segnali positivi dopo importanti segni meno consecutivi dal 2007. Una china che risale grazie a vari fattori come gli incentivi alla ristrutturazione e all'aumento dei mutui per l'acquisto di una casa concessi alle famiglie. Sul fronte ammortizzatori sociali, le tre gestioni, ordinaria, straordinaria ed in deroga, rilevano una flessione del monte ore nel 2015 del 23,6% rispetto all'anno precedente. In sostanza, diminuiscono le realtà operanti nel settore, a vantaggio di un incremento d'affari dei rimasti sul mercato. L'anno scorso le imprese attive nel settore edile sono state 68.164.